Buongiorno, mi ha fatto molto piacere questo invito a moderare l'incontro per la trasmissione dell'archivio dell'Arci al Gramsci perché naturalmente sia nella vita sia nell'attività giornalistica professionale ho incrociato mille volte l'Arci a cominciare dal terremoto dell'Irpinia dove credo Raffaella Bollini cominciò le sue attività a continuare con Comiso, a continuare con i movimenti per la pace all'epoca della seconda guerra in Iraq del forum e quindi è stato un vero piacere insomma che sono qui con voi e direi che do la parola subito a Francesco Giassi.